Buttare dentro, prima la traversa, poi l'hai messa dentro. Lì non ci dobbiamo pensare, basta prendere la porta e poi la palla entra. Stasera è bello rispetto a Cagliari, poi eravate stati rimontati qui, è bello perché è decisivo, è bello perché vi avvicina tantissimo alla salvezza. Sì, è molto importante questi tre punti per noi, questo è il nostro obiettivo, vincere questa partita, e così dopo quattro sconfitte consecutive abbiamo fatto questo salto e ci dobbiamo pensare all'altra partita. Si può dire che avete avuto più voglia di vincere questa partita rispetto al Genoa, anche in momenti di difficoltà magari? Era molto difficile questa partita, si vedeva anche che c'erano periodi quando ci tenevano di più loro, poi noi. Sì, voglia ci deve essere, senza voglia non si può andare avanti. Adesso questo campionato cosa vi può dire, cosa potete dire con una classifica così? Non possiamo dire ancora niente, non è finita, ci mancano tante partite, ci dobbiamo concentrare, dobbiamo essere concentrati per ognuna partita. Quota 33 però vi proietta verso una quasi salvezza, se non volete matematica però è un bel po' di salvezza che vi siete guadagnati oggi. Non contiamo, andiamo avanti, come ho detto mancano tante partite ancora, tanti punti e noi dobbiamo pensare a una partita prossima e poi vediamo. Ci dobbiamo fare massimo sempre e prendere più punti possibili. C'era però area di festa anche a fine partita, la proprietà vi ha aspettati tutti, vi ha abbracciati. Che cosa significava quell'abbraccio? Non abbiamo vinto già tante partite a casa, da quando sono arrivato io non abbiamo ancora vinto a casa. Era l'ultima partita contro Udine che abbiamo vinto, allora c'erano tutti felici, era questo. Lo spogliatoio è tutto tranquillo? Sono arrivato un po' ritardo, non lo so. Come è riusciuto questa sfida da ex? È sempre bello giocare contro le squadre ex, poi qui sono cresciuto, è la prima squadra in Italia e io mi sono goduto questa partita. Ti aspettavi di entrare in così breve tempo nei meccanismi della squadra? No, devo dire di no. Sono contento che sta andando così. Due assist contro la Juventus, un gol a Cagliari, un gol decisivo questa sera. In poche settimane che giudizio dai al tuo inserimento, alle tue prove con il Parma? Non aspettavo che può andare così perché in sei mesi ho giocato cinque o sei partite che è molto poco. Sono contento e solo devo ringraziare la Parma che mi ha dato questa possibilità.